Sabato 11 giugno presso la borsa merci di Arezzo a partire dalle ore 17 appuntamento con Meet the Meeting verso il Meeting di Rimini che si svolgerà dal 20 al 25 agosto. L'evento di sabato è organizzato dalla Comars e dal Centro Culturale di Arezzo. Ai nostri microfoni Stefano Parati, il responsabile del Centro Culturale di Arezzo. Il Centro Culturale di Arezzo con il Comars di Monte San Savino è già ormai alla terza edizione. Hanno deciso di organizzare un incontro, un convegno come appunto veniva detto, per presentare la prossima edizione del Meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli che si svolgerà a Rimini dal 20 al 25 agosto ma che appunto desideriamo presentarlo a tutta la cittadinanza retina qui ad Arezzo. Sabato 11 giugno alle ore 17 alla Borsa Merci. L'incontro sarà un incontro in cui saranno presenti tre personalità molto note, a noi molto care. Julian Carron, docente di teologia all'Università Cattolica, già presidente di Comunione e Liberazione. Franco Vaccari, conosciuto dagli aretini perché fondatore e presidente della fondazione Rondine Cittadella della Pace. E Andrea Simoncini, vicepresidente del Meeting e docente di diritto costituzionale all'Università di Firenze. Avremo l'occasione di discutere insieme del tema del Meeting, che quest'anno è una passione per l'uomo, a partire dalla visione insieme del film Vivere senza paura nell'età dell'incertezza, che è il video che riassume e trasforma in video quella che è stata la mostra centrale dell'edizione 2021 del Meeting, che aveva a tema proprio questo aspetto di Vivere senza paura nell'età dell'incertezza. È l'occasione appunto per mettere a tema il momento attuale che stiamo vivendo. Ancora non siamo usciti dalla pandemia, che più di due anni ci sta obbligando a restrizioni, a limitazioni, ma si è aggiunta da febbraio anche questa orribile disavventura della guerra in Ucraina, nel cuore dell'Europa. Per cui vogliamo mettere proprio a tema che cosa ci sta più a cuore, che cosa serve per vivere, insomma.